Sì, diciamo che sono molto contento per questo febbraio e soprattutto per essere arrivato e essere riuscito a dare una mano a questa squadra che ne aveva bisogno. Diciamo che sia il miglior febbraio fino ad adesso della mia carriera. Venivo da un momento non facile e sono veramente contento perché qui diciamo che sono un po' arrinato. Sto trovando il giocatore che sono e sono veramente contento di ringraziare questa squadra perché i miei gol sicuramente sono frutto di un lavoro che parte dal lunedì e poi viene messo in campo la domenica. Quindi il merito dei miei gol non è solo il mio ma di tutta questa squadra, quindi il merito va a tutti. Sono arrivato in un momento non molto buono di classifica per questa squadra, però diciamo che in tutte le partite che si sono state disputate c'è sempre stato un gran gioco. che però diciamo non veniva finalizzato e quindi poi prendendo uno o due gol le partite si perdevano. Noi abbiamo dato la dimostrazione che siamo una squadra forte, che sappiamo reagire bene anche nei momenti di difficoltà. Quindi diciamo che ho trovato una squadra che è forte e che sono sicuro che possiamo fare tanto e possiamo cercare di puntare in più in alto possibile. Io e Gabri oltre ad essere compagni di squadra siamo anche amici. Mi sono trovato subito bene con lui, mi ha fatto subito fare entrare parte di questo gruppo meraviglioso e sono veramente contento. Lo devo ringraziare perché mi ha subito reso partecipe. Per noi diciamo che è una partita che non abbiamo tanto da perdere, nel senso loro hanno più da perdere di noi. Noi andremo in campo e faremo la partita quella che abbiamo sempre fatto con tutte le squadre. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, è sempre la salvezza. Una volta raggiunta quella si inizia a pensare a guardare sopra.